Sicuramente è un posto unico per la sua bellezza innanzitutto, poi è un posto che è nato come monastero, quindi alleggia ancora l'animo dei monaci, sicuramente è rimasto un monastero dall'anno 1100 fino al 1802 circa, successivamente è proprietà Savoia e poi in privato fino ad arrivare all'anno 2000 che è diventato proprietà della regione Piemonte. Sicuramente è un posto magnifico dove si vede proprio il passaggio di queste proprietà nei secoli e dove si respira proprio un'aria particolare. A parte la bellezza di per sé è proprio bello il contesto in cui è inserito e ripeto l'unicità del posto perché in effetti non troviamo a parer mio nessun altro posto qua intorno che ha queste caratteristiche di pace, tranquillità e di storia sicuramente, perché la storia la respiriamo in tutte le pietre che vediamo. Ecco i degni di nota sono anche gli interni, le stanze. Sicuramente le stanze, la sua intendenza ha fatto un lavoro, per esempio in Montes un lavoro magnifico perché l'ala nord è già stata restaurata completamente, l'ala sud è al restauro, ci sono già 5-6 stanze aperte ricche di immobilio, ricche di fascino proprio tipico di Sabaudo. Noi siamo molto contenti come amministrazione di aver rilanciato questa struttura, il castello è un bene regionale che da agosto 2020 ha riaperto i battenti dopo anni di restauri e di una storia molto travagliata, di incurie, di trascuratezza. È stata un'impresa per noi perché davvero ripartire da zero e incamminare una struttura del genere da zero è stato molto impegnativo ma stiamo raccogliendo tantissime soddisfazioni. Noi fino ad oggi siamo riusciti ad accogliere più di 12.000 visitatori ed è un risultato che nessuno di noi ci sarebbe aspettato un po' per la mancanza da parte nostra magari di comunicazione, dobbiamo ancora fare tanto e il castello è all'inizio. Vogliamo crescere, ci piacerebbe anche essere pronti ad accogliere e ad ospitare eventi di diverso genere e sorta. Il castello deve ringraziare la Regione Piemonte perché i tecnici e i professionisti della Regione Piemonte hanno lavorato instancabilmente e non ci hanno mai lasciato soli quando abbiamo avuto richieste, abbiamo avuto bisogno del loro sostegno non ci sono mai tirati indietro, ci sono dimostrati veramente molto collaborativi. Vuol dire che questo è davvero un bene comune ed è nell'interesse di tutti che lavori, che sia autonomo, indipendente e che possa crescere nel tempo.